E questo è il tetto della chiesa. Spero che si senta perché c'è vento e speriamo. In the hour of time, nobody is losing. Faces much of change, but your face remains the same. Spirits will be here by dark. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and the nights will melt. We'll always remember how it felt. A significant life, just what it was needed. Here are the cultivations of rice, which are disseminated in the month of May and collected until September. It gives you the 30% of the false oil in the year. This rice. In the hour of time, nobody is losing. The trees will bloom and the nights will melt. We'll always remember how it felt. In the hour of time, nobody is losing. In the hour of time, nobody is losing. In the hour of time, nobody is losing. And we're going to visit this city of sea. We'll be at 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 sea. All right, Amber, what's the name of the city? Questi sono le due sante, Santa Maria Salomè e Santa Maria Jacobè. L'Ambra si è dimenticata della sua claustrofobia per le scale, questa è una scala leggerna claustrofobica. E questo è il tetto della chiesa. Come potete vedere si può proprio salire sul tetto, sul punto di colma del tetto. Vi faccio vedere il panorama. Adesso vi faccio vedere come scendere non facendosi male. Che figuracce sarebbe se scivolasse. Qui ha delle pime che rimane in piedi da solo. San Marie de la Mer. Credo il primo e unico paese che pronuncieremo correttamente in questi video della provincia. Da cosa ne pensi? Non so neanche se l'abbiamo pronunciato bene stavolta. Dammi un po' di soddisfazione da ogni tanto. Si scende. Si scende. Si. Adesso forse... Andiamo verso la luce. Vai. E dopo questa immagine di sport estremo, bocce, bocce estreme, anche qui in Francia vanno per la maggiore a quanto pare. Vedete concludere il video qui. Noi salutiamo dalla Provenza. Lasciate un like sotto al video. Commentate se avete qualche domanda. Iscrivetevi al canale. Leggete la descrizione. Mi sembro un disco rotto. E niente. Dai. Ci vediamo al prossimo video della Provenza. Bene ragazzi. Con questo si conclude la serie della Provenza. Festeggiamo anche il video numero 100. Perché questo qui è il centesimo video che metto sul canale. Quindi... Comunque ora non si conclude niente. In realtà c'è finita la serie della Provenza. Ma va avanti quella della Liguria. E soprattutto incomincia quella delle isole Cicladi. Di cui avete visto il trailer sicuramente in quel video dove io ho la faccia alla Babbo Natale che potete... Ora qui da una parte dovrà fare una barra con appunto il link per iscrivervi al canale. E anche un link per poter andare a rivedere tutti quanti i video della serie della Provenza. Cliccateci sopra appunto. Vi verrà fuori il link. Potete andare a rivedere tutti quanti gli episodi precedenti. Con questo ragazzi è tutto. Iscrivetevi. Vedete like. Se avete cose. Commentate. Ciao a tutti. E ci vediamo questa settimana con un prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.